Oggi l'8 marzo è la festa delle donne e riprendo questi fiori gialli simili alle mimose ma che non sono tali per ricordare a tante donne che oggi sono festeggiate dal loro uomo che però le picchia tutto l'anno. La vera festa che gli uomini possono fare alle loro donne è proprio quella che dura un anno intero e non solo un giorno per poi continuare a picchiare coloro che dicono di amare.